Allora, io vi parlerò della parte più pratica di tutto quello che abbiamo detto è praticamente una sintesi, perché tramite la medicina integrata che prevede tutto quello che abbiamo detto la redoxomica, la proteomica, tutta la parte di medicina che si interessa di biochimica e di biofisica in particolare e di genetica funzionale, vista calata nella pratica quotidiana nell'aiuto di una coppia che deve procreare. Abbiamo visto che importanza è che tutto sia a posto perché si possa procreare. E da dove è partito il discorso dei centri MIR? L'idea è nata partendo dalla ricerca di ecofood fertility e dello spermatozoo come biomarker. Sono andata avanti, abbiamo ragionato, sul che cosa c'è che non viene visto durante un incontro con una coppia che viene per una consulenza per cominciare una gravidanza o perché non riesce ad avere una gravidanza. Sono due i momenti. Uno, quello in cui una coppia comincia a pensare di voler procreare, può riuscirci subito, può non riuscirci e in tutti i casi sono due strade diverse nel senso che nel momento in cui una coppia decide di avere un figlio dovrebbe trovarsi nelle condizioni fisiche di benessere migliori. Cosa che non è sempre detto perché nessuno di noi sa veramente poi come sta fino in fondo. Spesso si arriva poi dopo un anno o due anni non riuscendo ad avere una gravidanza spontanea a recarsi in centri di aiuto di riproduzione assistita. E che cosa ho notato? Io che ho vissuto ho vent'anni e più in centri di riproduzione assistita. A un certo punto mi sono fatto una domanda dopo tanti anni che i risultati a livello biologico sono sempre gli stessi. La riuscita non cambia tantissimo eppure le tecniche si sono affinate ma siamo diciamo in un punto fermo. Ormai siamo in un punto fermo con delle probabilità che vanno a seconda delle fasce d'età della donna, in particolare dal 5% al 30%. Quindi mediamente la riuscita di una fecondazione in un centro di PMA è intorno al 20%. Ma allora che cosa c'è che non va? Che cosa c'è che non guardiamo? Andando a guardare i dati dell'Istituto Superiore di Sanità del centro di registro PMA si va a vedere che nell'inseminazione è semplice quindi nel primo livello noi abbiamo la bellezza del 30% di sine causa. Che cosa vuol dire? Che non si è capito perché questa coppia non riesce ad avere un figlio. Se poi passiamo dopo varie indagini, ulteriori indagini, al secondo livello vediamo che le sine causa si abbassano al 16%. Quindi già si sono scridate delle cose in più ovviamente ma non basta. Quindi delle sine causa c'è una grossa parte che noi non valutiamo. Che cosa può dare un aiuto? Dà un aiuto alla medicina integrata. Cioè la valutazione della coppia del suo insieme dove non basta che ci sia il controllo delle analisi di base dell'infettivologia ma bisogna andare un pochino più a fondo in che cosa? In tutte quelle branche di cui ci hanno parlato oggi. Allora dobbiamo considerare la libidomica, dobbiamo riconsiderare lo stress ossidativo, dobbiamo considerare la predisposizione della persona e della coppia. Che cosa porta questo? Che cosa può dare come aiuto ad una coppia? Primo il fatto che possa riprodursi spontaneamente come diceva il dottor Firmo a casa sua. Oppure se ha la necessità prevedibile che vada a PMA che debba ricorrere a tecnica di riproduzione assistita avrà la possibilità di migliorare la percentuale di successo che si basa su tanti piccoli fattori messi insieme. E questo non vale soltanto per la riproduzione omologa ma anche per l'eterologa perché comunque sarà la donna a portare in grembo comunque un embrione anche se viene da ovociti che non sono i suoi o viene da spermatozoi che non sono i suoi. Comunque è il periodo della gravidanza anche questo è fondamentale. E quindi il metodo integrato si basa sul mettere insieme le scienze biologiche, genetiche, andrologiche e le ginecologiche in modo tale che tutte queste figure professionali siano in grado parlandosi di dare poi una via, un protocollo alla coppia. Quindi abbiamo visto poi, ormai è chiaro, che i gameti sono le spie della salute dell'individuo e se i gameti sono appunto questa espressione di salute e di benessere migliorare, correggere, arrivare a un miglioramento del benessere della persona vuol dire anche portare il miglioramento dei gameti. E quindi il concetto del progetto è quello di ottimizzare le cure, migliorare quindi sostenere le funzioni delle cellule, degli organi e quindi migliorare tutta la parte della salute di questa coppia. Salute che non è soltanto di tipo fisico ma deve essere anche di tipo psicologico perché le tensioni e lo stress che procura il periodo in cui si devono, si sa di dover effettuare queste tecniche e si fanno e il periodo anche dopo aver effettuato proprio la tecnica è uno dei peggiori per l'ansia e per lo stress di una donna ma della coppia in generale. La donna lo subisce chiaramente di più in prima persona. Quindi l'importante è fornire delle cure, dei sistemi che personalizzino il sistema ma mettano anche la coppia in uno stato di tranquillità, di sapere che è seguita. Ecco, allora l'organizzazione europea della medicina e dello stile di vita considera per uno stato di benessere che ci sia la presenza dell'attenzione sull'alimentazione, sull'ambiente che circonda la persona o la coppia, sulla psiche e sull'attività fisica. Questi sono i quattro elementi su cui bisogna focalizzare l'attenzione. Quindi l'approccio qual è? Quello che è un approccio di tipo PNEI, cioè dove c'è un legame stretto tra mente e corpo, sentivamo anche la collega che parlava di come il cervello elabora e varia delle attività e quindi la psiche e lo stress ambientale influenzano la salute fisica e l'organismo ma anche la salute fisica e l'organismo influenza poi lo stress che si riceve e le emozioni. Quindi questo modo di vedere l'organismo mette tutto in connessione e quindi è una forma olistica di medicina che non elimina assolutamente la medicina di base che deve essere sempre presente ma aiuta affiancandola. Quindi l'informazione ha due vie. Che vuol dire? Che praticamente è vero che noi nasciamo con un determinato, con un DNA già programmato e con una nostra predisposizione programmata, però è anche vero che l'ambiente, ormai si è visto, ormai è evidente, che l'ambiente agisce sul nostro DNA, sull'espressione del nostro DNA e quindi può cambiare poi i risultati. E che cosa agisce? Che cosa è importante? È importante, l'abbiamo già detto, quindi è inutile magari ripeterlo, che l'inquinamento ambientale è una grossa fonte di variazione di danno sul nostro, proprio sulla nostra epigenetica, è lo stile di vita, il tipo di esercizio che facciamo, come ci muoviamo, le nostre emozioni, quello che sentiamo, i rapporti che abbiamo con gli altri e poi chiaramente l'alimentazione per tutto quello che hanno detto già ai colleghi, nel senso che è chiaro che la biochimica e tutto il metabolismo agisce come se fosse un farmaco, cioè tutte queste sostanze che si muovono e che creano la funzione dei vari metabolismi, se non sono, vengono presi dall'alimentazione, quindi i principi di base vengono dall'alimentazione. E se questa alimentazione purtroppo non è adeguata, come ultimamente sappiamo che mangiamo in una maniera che sicuramente non è tra le più naturali, questo porta poi a dei problemi, a dei danni proprio in generale. Allora, quali sono i fattori di rischio? Sono quelli ambientali, gli alimentari, lo stile di vita, proprio sulla capacità riproduttiva si risentono tantissimo e li conosciamo, sono gli interferenti endocrini, i contaminanti vari ambientali, gli additivi che troviamo negli alimenti e non ce ne rendiamo conto di che cosa ci sia negli alimenti industriali, l'alimentazione che può essere non equilibrata, si mangia spesso male, si vive male e non si lascia al giusto tempo a quello che è il cibo. Il cibo e l'alimentazione sono un momento che dovrebbe essere un momento di calma, di rilassamento, invece magari mangiamo di fretta, mangiamo i nervositi, sappiamo insomma quel è il nostro stile di vita quotidiano che non ci aiuta sicuramente. E poi ci muoviamo? No, ci muoviamo pochissimo, abbiamo solo la sensazione di muoverci ma passiamo da una sedia a fuori casa, a due passi, la macchina, di nuovo il lavoro e via di questo passo. Quanti di noi riescono veramente a curarsi di se stessi fino in fondo? Poco perché non ne abbiamo proprio il tempo, siamo entrati in un circolo vizioso e non riusciamo a curare noi stessi. E questo è il protocollo e quindi da questo è nato insieme al dottor Firme e al dottor Montano, ci siamo conosciuti così per caso, abbiamo capito che ragionavamo più o meno nello stesso modo ed è nato quindi questo progetto, sempre partendo dalla ricerca scientifica che aveva cominciato il dottor Montano sullo spermatozoo siamo arrivati a dire sì questa è la parte di ricerca però che cosa possiamo fare realmente nel quotidiano per le coppie? E allora cerchiamo di organizzare un protocollo che possa essere d'aiuto e quindi abbiamo pensato che c'è la necessità intanto sicuramente di un'equip perché non basta un medico, un cervello e una specializzazione ma ci vuole l'insieme delle varie discipline, deve essere un lavoro interdisciplinare e quindi ognuno mette il suo. Allora come? Facendo praticamente un inquadramento da un primo colloquio con un ginecologo, un andrologo, un genetista, un nutrizionista e uno psicologo. Qui sullo psicologo nasce sempre qualche problema perché sappiamo che appena si parla si c'è una coppia, volete essere aiutati da uno psicologo, volete vado e retro, si alzano e se ne vanno, questa è la realtà. Allora lo psicologo non deve essere visto come e non deve essere la persona che fa terapia per anni ma deve essere dedicata a quel particolare momento come sostegno perché spesso io ho notato che le coppie, cosa fanno? Escono dal medico, dall'incontro con il medico, hanno capito qualche cosa ma non tutto perché nel frattempo erano ansiose, quindi sedute lì guardano e si guardano tra loro, sembra che hanno capito tutto, ti dicono pure sì sì tutto a posto, quando escono vanno dalla segretaria e dicono io però questa cosa vorrei capirla meglio. Allora anziché andare dalla segretaria dovrebbero andare da una persona che gli fa da sostegno e che abbia la capacità anche di gestirla questa cosa perché non è facilissimo. Le coppie che hanno problemi di fertilità sono persone estremamente ansiose e che hanno proprio, e sono fagocitanti in genere, quindi ci vuole una persona che non abbia, che sia in grado anche di gestire questa cosa e questa è la figura dello psicologo è sicuramente valida però va fatta digerire in una forma diversa. Comunque questo è il primo colloquio che poi viene fatto, si può fare in due, per esempio io vedrei che si può fare con lo psicologo, figura presente insieme al ginecologo o insieme all'andrologo e quindi già lo vedono come una figura accogliente ma non strettamente tecnica. E poi si parte il secondo colloquio che cos'è? Viene dopo una serie di indagini che sono state prescritte e quindi diventa un controllo delle analisi ed un inquadramento di quello che deve essere fatto poi come attività per arrivare alla soluzione del progetto della coppia. Quindi il protocollo si basa su indagini specialistiche che sono in particolare la lipidomica, la redoxomica, è interessante anche il potenziale di membrana, i polimorfismi genetici, l'epigenetica e il microbiota. E questo è il protocollo delle indagini, c'è il protocollo per l'uomo e il protocollo per la donna. Noi l'abbiamo diviso per primo livello e secondo livello dove praticamente nel primo livello è il conoscere la persona con le solite analisi che sono le ematochimiche, i dosaggi ormonali, fare l'inquadramento normale che si fa sempre con aggiunta magari di particolari anche maggiori tipo l'omocisteina da chiedere sempre, tipo la vitamina D da chiedere perché è chiaro che sono componenti essenziali per un corretto metabolismo. E poi il profilo dunque vabbè lo spermiogramma chiaramente per l'uomo con la valutazione possibilmente del potenziale di membrana e con lo studio delle frammentazioni al DNA perché spesso un normospermico che ci appare come tale non è detto che non abbia frammentazioni. Questo perché lo stress ossidativo è particolarmente importante per gli spermatozoi e lo subiscono particolarmente quindi lo stress ossidativo è una cosa che poi quando è aumentata porta ad una frammentazione del DNA che può essere risolta. Ci sono terapie aiuti per risolverla però se non la si conosce le probabilità di riuscita di una fecondazione sono più basse e anche se riesce alla fecondazione è una delle cause per cui si ha aborto per causa paterna. Poi l'altro importante test è il profilo lipidomico sia sul liquido seminale che sull'eritrocita maturo nella donna, nell'eritrocita maturo, nell'uomo sul seminale. Ci stiamo lavorando come vi accennava, ve ne ha parlato il dottor Firmo quindi non mi soffermo per l'importanza appunto della membrana plasmatica e nell'unione tra durante la fecondazione tra i due lochiameti. Poi il Redox Energy Test è un test di stress ossidativo di tipo biochimico che valuta praticamente una trentina di sostanze quindi è molto indicativo sullo stato Redox della persona e questo viene fatto anche sulla donna. Poi si passa ai testi genetici che sono quelli anche richiesti per norme per linee guida che sono il tipo per valutare comunque la situazione cromosomica dell'assetto cromosomico sia nell'uomo che nella donna e nella donna in particolare prevediamo anche i fattori per la trombofilia perché anche quelli possono essere un motivo per cui magari si arriva ad una gravidanza ma poi si abortisce per problemi di trombofilia e poi da lì si passa al secondo livello quindi a quel punto si incontra la persona si inquadra la situazione e poi si va a vedere se ci sono ulteriori cose da valutare quali possono essere ancora altri ulteriori esami ormonali per esempio la MH si può fare anche sull'uomo quando si sospetta è una zoospermia secretiva e sulla donna invece è la fibrosicistica come analisi molecolare. Io personalmente prevedisco sempre fare la fibrosicistica sull'uomo perché dà più informazioni rispetto che sulla donna in quanto la valutazione di un tratto di un polimorfismo dell'introneotto del gene della fibrosicistica se presente in doppia forma TTI può dare il rischio di una genesia dei deferenti quindi mi dà una maggiore informazione nella donna questo non accade. Nella donna va fatta anche eventualmente la celiachia se si ha un dubbio che ci sia una problematica di tipo intestinale, di stato infiammatorio e eventualmente la beta talassemia poi questa è una valutazione che fa il genetista in base alla provenienza della coppia e di entrambi i membri se svengono dallo stesso territorio, insomma sono valutazioni poi di tipo genetico sulla scelta di ulteriori indagini di questo genere o indagini che poi ci si rende conto che nella famiglia c'è qualcosa che bisogna valutare prima in pre-fecondazione. E poi c'è nell'uomo per esempio le microdelezioni ma si fanno soltanto quando ci troviamo in una condizione di una concentrazione inferiore al 5 milioni di spermatozoi per millilitro al di sopra non si fa perché non le troveremmo le microdelezioni. Poi i pannelli, il pannello Fertil Screen, adesso lo vedremo dopo, è una serie di polimorfismi che abbiamo messo su per valutare l'origine che può avere una ipofertilità. E dopo ci sarà l'immagine con i pannelli. E poi nell'uomo in particolare è opportuno anche fare il pannello genetico dello stress ossidativo qualora l'analisi di prima del Redox Energy ci dia delle informazioni che ci dicono che forse qualcosa non va, ecco perché è di secondo livello e non di primo. Invece nella donna la valutazione del pannello genetico dello stato infammatorio è più importante, quindi insieme anche a quello della capacità di riparo del DNA. Perché i spermatozoi non sono in grado di riparare il proprio DNA e quindi deve essere l'ovocita ad averne la capacità per gestire anche il riparo del gamete maschile. Però se questo ovocita non è giovanissimo, questa capacità di riparo si abbassa e quindi il danno si presenta. E poi ci sono gli esami da rischio ambientale. Tra questo c'è appunto il testless drive, che è un test biofisico di predisposizione, ne hanno già parlato ampiamente i colleghi, perché io lo trovo molto utile. Perché se arriva una persona e racconta di star male in mille modi, mi sento stanca, non sto bene con l'intestino, digerisco male, uno non sa da che parte cominciare. Invece facendo questo test dà un'indicazione a cercare di approfondire una determinata caratteristica di quella persona per comprendere meglio dove può andare a gestire una situazione. Poi nella donna in particolare io ritengo che è un'analisi forse anche di terzo livello, ma poi dipende dal colloquio per capire questa cosa, se desideri considerarlo per ultimo. Cioè sono indagini che va capito quando farle, come farle, sono tutte presenti nel pannello, però bisogna poi modularle a seconda della persona che si ha davanti. E anche la disbiosi, quindi il microbiota intestinale è fondamentale perché va a coinvolgere uno stato infiammatorio nella donna, è fondamentale che non esista questo tipo di stato infiammatorio. Per esempio la PCO che presenta, all'ovaio policistico, presenta uno stato di base infiammatorio, va anche valutato con il microbiota. E' importante anche il cortisolo, il cortisolo è quello circadiano, non basta fare il cortisolo sul sangue, dà pochissima indicazione. Quello che dà indicazione è la curva circadiana del cortisolo, quindi vanno fatti quattro prelievi e se si fanno su saliva è tutto più semplice. E' più semplice per la donna perché è chiaro, lo fa a casa per conto suo, poi lo porta il mattino dopo e si fa la valutazione. Non potrebbe stare alle 11 di sera a fare un prelievo perché non gli apre nessun laboratorio in realtà. Poi ci sono i metalli, i metalli fisiologici, i metalli pesanti che si fanno sul capello con il mineralogramma. Anche questa è una cosa da valutare sempre se c'è necessità. Quindi sta poi al colloquio, durante il colloquio, comprendere. Nell'uomo si può fare anche tutto il pannello tossicologico sul liquido seminale e poi chiaramente la diagnostica strumentale, quella va prevista di base l'ecografia, l'ecodoppler nell'uomo, ecografia, esteroscopia, isterosono nella donna. Vabbè, queste cose le abbiamo già viste. Ecco, questo è come si presentano i referti. Il referto della lipidomica, il fat profile è praticamente un test che si fa sull'editrocita e si presenta con, va compreso, ma va compreso, va spiegato dal collega ovviamente che poi farà tutte le sue considerazioni. Stessa cosa per quello della lipidomica sul liquido spermatico. Il Redox presenta, appunto, per la valutazione dei radicali liberi, della loro tossicità, presenta questo pannello di ricerca. È un test che noi facciamo fare ad un collega che è un professore di biofisica dell'Università di Catania. e dà una serie di indicazioni. Vedete qui un esempio, quello in rosso, sono i valori che sono alterati e che in qualche modo vanno rivisti e compresi. Questo, vabbè, il test biofisico di predisposizione S-Drive, lo conoscete. È quello che permette quindi di valutare le condizioni in cui si trova l'organismo rispetto ai componenti ambientali a cui è costantemente sottoposto. È quello che è in carenza o quello che è in eccesso per poi rimettere in equilibrio la persona. Questo è il referto per i metalli pesanti e per i fisiologici. Questo test viene inviato in America. È attualmente il più preciso. Quello che io ritengo il più preciso è che dà più informazioni. E' chiaro che poi tutti questi vanno compresi e vanno saputi spiegare alla coppia. E' per questo che poi servono magari i corsi per capire come gestire queste indagini. Questo invece è il pannello di tossicologia che si può fare sul liquido seminale. E praticamente prevede metalli pesanti, i policlorobi fenili, i composti cancerogeni secondo gli ARC del gruppo A2 che danno appunto un aumento di rischio all'esposizione. E tutti questi vengono valutati sempre sul liquido seminale tramite l'Università di Federico II. E questo è come si presenta la curva del cortisolo, come normalmente si deve presentare la curva del cortisolo. Quindi il cortisolo comincia a salire la mattina intorno alla notte, tra le 4 e le 5 comincia a salire, arriva al picco alle 8 quando uno deve essere in attività, deve essere sveglio, attivo. Poi scende, fa un altro piccolo picco intorno a mezzogiorno l'una e deve poi riscendere perché nella notte la persona deve mettersi in uno stato di relax. Se non scende c'è qualcosa che non va. Quindi va valutato poi il surrene e via di questo passo. La genetica. La genetica è un discorso poi molto più complesso come avrete sentito dai colleghi. Quindi la genomica, io la chiamo genomica funzionale, perché chiamarla nutrigenetica. Finito? Ok, va bene. Quindi diciamo che passiamo a quello che è la genetica di cui già abbiamo parlato. Allora perché è importante? Perché identificare e caratterizzare mutazioni e fattori che coinvolgono lo sviluppo e il progresso di malattie causate dall'interazione di fattori genetici e ambientali è fondamentale. Ed è anche fondamentale conoscere i meccanismi dell'insorgenza di determinate patologie e i loro possibili biomarcatori. Quindi questo permette di fare delle indagini, delle diagnosi più accurate. ed è quello che noi vogliamo per avere poi dei risultati migliori da quello che sono, parliamo dei cicli di PMA perché sono la cosa più coinvolgente, ma non è solo questo, è anche il pre-PMA perché non è detto che tutti debbano, anzi si spera che non tutti debbano arrivare, anche se ormai le persone, siamo arrivati al 39 anni e qualcosa, di media delle persone che approcciano a un centro di PMA, capite bene che le carte che si giocano sono sempre più basse. Quindi l'ambiente ha lavorato sopra, lo stress ha lavorato sopra e gli ovociti sono invecchiati. E soprattutto gli ovociti sono invecchiati. Adesso vediamo che anche gli spermatozoi non è che siano questo splendore, vabbè. E quindi anche nella ricerca di una riproduzione naturale è opportuno avere chiaro che tipo di diagnosi sia necessario fare per aiutare. Questo vabbè, andiamo avanti. I polimorfismi lasciamo perdere perché tanto ne abbiamo già parlato ampiamente. Andiamo avanti qui. Quindi i polimorfismi nell'infertilità possono aiutare a spiegare l'infertilità idiopatica, sia maschile che femmine. È quello che proprio non riusciamo a vedere da uno spermatozoo. Noi ne vediamo la forma, ne vediamo il movimento, ne vediamo la quantità, ma quello che c'è dentro non lo vediamo. E quello possiamo vederlo soltanto facendo questo tipo di analisi. E questi sono i polimorfismi, il pannello dei polimorfismi dove, come vedete, quelle sono delle sigle dei polimorfismi che si valutano, ma che cosa vanno a valutare? Le alterazioni funzionali come l'oligospermia, oligospermia associata ad obesità, la stenospermia, cioè proprio un'incapacità di fecondare, ancora stenospermia, la capacità della reazione acrosomiale, la chemiotassi verso l'ovocita, l'oligospermia con minori livello di FSH e maggiori di LH, il ridotto volume testicolare dell'FSH, quindi sono tutti dati che aiutano il medico a fare terapia, a migliorare le terapie. Questo per l'uomo, ma nell'uomo facciamo anche lo stress ossidativo, praticamente per capire se c'è un problema, se è un problema di tipo costituzionale o se è un problema esclusivamente nutrizionale. E questo invece è il pannello dei polimorfismi femminili, la cui importanza è in particolare quella di capire come questa donna può rispondere ad una stimolazione, perché valuta soprattutto i recettori ormonali, oppure anche il difetto di maturazione degli ovocidi perché va a valutare la zona pellucida, come reagisce, oppure proprio la ridotta funzionalità dovuta al difetto del citocromo 450 che praticamente è il motore poi dei mitocondri, della funzionalità dei mitocondri. E via di questo passo, insomma, va bene, questi sono, che poi vanno valutati. E poi nella donna anche la valutazione dello stato infiammatorio con le interluchine e quella invece della capacità di riparazione del DNA, che sono quattro polimorfismi che danno delle informazioni su come questi ovocidi siano in grado o meno di riparare il danno. Queste cose non ci interessano soltanto per migliorare la coppia e lo stato della coppia, ma perché tutto quello che è il benessere della donna e dell'uomo praticamente si ripercuoterà sul prodotto del concepimento, sia prima che dopo poi per come vive, per lo stile della donna durante la gravidanza. Quindi non sottovalutare mai gli effetti transgenerazionali perché come e dove nasci, saluta del padre e soprattutto della madre prima, durante e dopo il concepimento. Quindi ciò che avviene, come dice il professor Burgio, ciò che avviene nei nuovi mesi di gestazione può essere più importante di quanto avverrà nel corso della vita. Questi sono tutti i fattori, ma sembra che l'avesse fatto vedere anche il professore, questi sono i fattori che coinvolgono la programmazione genetica e epigenetica e quindi lo stile di vita gioca questo ruolo cruciale nella salute riproduttiva e transgenerazionale e possiamo risolvere molte cose tramite cambiamenti comportamentali e la ricerca di un modo e di un ambiente il più possibile sano in cui vivere. Certo è che il compito nostro comunque è fare informazione, fare educazione di tutti noi per ottenere questo. Grazie a tutti!